Buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Saiuz e ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella e Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Triviso, ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. Il nostro aiuto regista Ugo da Modena, ciao Ugo. Buonasera. Bene, penso sia in collegamento anche il nostro Massimo Bonella, editorialista di PenetaOgtv.net. Non ancora, penso l'avremo fra qualche secondo. Bene, quindi diamo il benvenuto agli ospiti di questo pomeriggio. Come promesso la scorsa settimana abbiamo ancora con noi Aaron Pettinari e Pietro Satti. Ciao Aaron, ciao Pietro. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Buon pomeriggio a voi. Allora, ricordiamo che Aaron Pettinari è in libreria con la sua prima esperienza editoriale, quel terribile 92, 25 voci per raccontare l'anno che cambiò la storia, a cura di Pietro Satti appunto e edito da Imprimatur. Dunque Aaron, in attesa che arrivi Massimo e ci dia gli ultimi aggiornamenti, iniziamo subito da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo parlato della coralità di questo libro e di come la coralità sia importante per sostenere il valore della memoria, soprattutto perché la coralità ci ricorda che facciamo parte di una collettività in un momento come questo dove sembra che l'altro sia solo il nostro nemico. Ci siamo lasciati sfiorando un argomento di estrema attualità. Nelle tante interviste da te riportate e da te curate Pietro non si può fare a meno di notare il costante riferimento al ruolo dell'informazione, il ruolo rivestito allora e inevitabilmente messo in discussione a tutt'oggi. Un'informazione che fin da allora sembra aver abdicato il suo ruolo, delegandolo alla satira, al teatro, all'arte in genere. Quale responsabilità, secondo voi, ha avuto l'informazione nel raccontare il 92 e qual è la sua attuale responsabilità di fronte ai fatti più attuali, non posso fare a meno di pensare a Mafia Capitale, sulla quale Pietro mi piacerebbe avere un tuo inciso, visto che hai dedicato un libro all'argomento. Anche per un fatto di età nel 92 facevo informazione, quindi quegli anni di lì ho iniziato proprio a lavorare, quindi ho un minimo di esperienza di quella stagione. In realtà all'epoca l'informazione c'era, c'era molta informazione libera fra l'altro, c'erano molti giornali in cooperativa, c'erano molti giornali che facevano il proprio lavoro, molti altri che facevano un lavoro un po' più sostanziale, ma diciamo che tutta la stampa, in particolare sulla vicenda iniziale dell'anno, ovvero stiamo parlando di Tangentopoli, di Mani Pulite, fu addirittura ossessivo, fu quasi una sovraesposizione di quello che stava avvenendo. Beh, in effetti ricordiamo tutti la figura di Paolo Brosa che aveva trasferito la sua residenza dinanzi al Palazzo di Giustizia di Giorgiano. Lui era fisico, ma non è che i cenni parto di questo o di questo, o di questo, o di questo, o di questo, fossero di meno davanti al Tribunale, solo che non erano davanti alle telecamere. Lì la questione è che quella stagione, che forse è stata una stagione fondamentale per il cambiamento, eccetera, è stata raccontata in gran parte da, cioè la memoria è quasi tutta televisiva. E con questo la Rai era in grave difficoltà, e quindi era evidente che cercava di dare un taglio il più pluralista possibile, poi di fatto bloccandosi. Dall'altra parte c'erano i canali Mediaset, che erano ovviamente, cercavano il sangue, chiamiamolo così, cioè le scelte populente, e così via, ma dall'altra parte comunque in qualche modo tutelavano alcune aree politiche, o comunque tentavano di raccontarle in una maniera che non era esattamente quella che era la realtà dei fatti. Il problema è che quella stagione c'era, era contraddittoria, ma c'era comunque informazione. Adesso l'informazione è inesistente, non ci sono più i giornali in cooperativa, di cooperativa di giornalisti, non c'è più stampa indipendente, non c'è più nulla di tutto questo. C'è molto brusio, molto social, ma senza nessun tipo di analisi, nessun tipo di inchiesta, non c'è più questa roba qua. E contemporaneamente ovviamente c'è un vuoto di racconto, non viene più raccontato quello che sta succedendo, se non ha sprazzi. Poi dire che in quell'epoca sicuramente, soprattutto in televisione, nelle piazze, i comici, la satira, conquistò uno spazio con l'informazione che non riusciva a coprire, che era uno spazio estremamente di denuncia, è successo. Ma è successo soprattutto nella fase successiva, stiamo parlando negli anni della discesa in campo, in particolare, di quello che è successo dopo. Lì fu veramente molto presente, fu presente prima, ad esempio, le famose uscite di Grillo sui socialisti, ladri, eccetera, e si era subito dopo il 92. Nel 92, in realtà, erano tutti disorientati, era inevitabile che era disorientato il paese, ma la stampa, che in qualche modo doveva tentare di raccontarlo, non sapeva cosa stava succedendo, non si riusciva a capire cosa stesse succedendo. Allo stesso modo, diciamo, le direzioni editoriali e politiche dei canali televisivi si muovevano con una grandissima prudenza, una grandissima prudenza, cavalcando qualcuno, alcune ondate populiste, in particolare, pensando a Emilio Fede, che si stava all'occhiolino, era evidente alla Lega fin da subito, però poi alla fine il risultato è stato che pochi anni dopo c'è stato il primo decreto bulgaro, l'editto bulgaro, c'è stato l'annientamento di intere redazioni. Se calcoliamo che c'erano almeno una trentina di testate in copertura indipendenti, quindi totalmente indipendenti dal potere politico ed economico, e adesso non ce ne sono più, è ovvio che è successo qualcosa di grave, che le responsabilità non sono soltanto del sistema dei partiti, ma anche dell'antipolitica. La campagna più grossa sul taglio di finanziamenti pubblici ha colpito principalmente le testate giornalistiche in cooperative indipendenti, le grosse testate hanno trovato altre formule di finanziamento pubblico, quello sull'innovazione, eccetera, mentre tutto il resto è stato annientato. E il web non riesce a coprire, non riesce a coprire. non riesce a coprire. Le sue primitivine. Prego. Aaron? Io credo, sono sicuramente d'accordo con quello che ha ricordato Pietro, all'epoca ovviamente lui è un testimone oculare di quella che era l'informazione dell'epoca, io posso aggiungere il fatto che l'informazione al tempo c'era probabilmente anche una sorta di se vogliamo ancora un interesse rispetto a determinati argomenti, a parte il fatto di un'informazione che è stata a suo malgrado colpita nel raccontare un qualcosa che in qualche maniera forse si aspettava, tutti quanti sapevano, come hanno detto alcuni dei testimoni, tutti sapevano, facevano finta di non vedere, penso per in primis Jacopo Fo, che fondamentalmente negli scandali del 92 lui racconta chiaramente che suo padre, sua madre, i suoi genitori in tv lo dicevano da tempo, raccontavano da tempo determinate dinamiche, ben prima ancora che arrivassero poi in realtà i vari Grillo, Benigno, quant'altro a fare satira in tv. Detto questo, proprio anche appunto a livello di informazione è ovvio che a un certo punto c'è un cambiamento, un cambiamento portato proprio da quelle televisioni, da quei canali portati da un soggetto che poi dopo da un punto di vista smette e smette, continua a fare l'imprenditore ma soprattutto inizia a vestire i panni del politico e questo è Silvio Berlusconi che piano piano trasferisce tutto quello che era diciamo informazione in tutte le sue forme perché io non mi voglio fermare solamente al modo di fare informazione per quanto riguarda i TG, i telegiornali classici ma secondo me informazione passa anche proprio da un modo di fare di televisione e se sbaglio penso che Pietro può sicuramente correggermi ma credo di non sbagliare cioè di fatto gli approfondimenti il modo di fare televisione creare i canali i programmi di intrattenimento piano piano invadono anche quella che era in realtà la TV pubblica la RAI nel tempo è stato ricordato l'editto pubblico bulgaro scusate ma e ci sono e questa è solamente una facciata diciamo di quello solamente un aspetto di quello che avviene di quello che avviene poi dopo perché di fatto la RAI l'ingerenza il peso della politica Berlusconi ricordiamoci che di punto in bianco si trova ad avere oltre alle sue tre reti private ma anche le reti pubbliche dal momento che va al governo e questo è il mondo è la faccia di un mondo che cambia notevolmente e si arriva poi all'oggi un'altra cosa che mi ricordo del tempo con tutto che potevo essere un ragazzino un bambino di 8-9 anni ma ricordo benissimo che in quegli anni c'era un giorno in procura che trasmetteva in tv le immagini le riprese di Pietro che faceva gli interrogatori tutti quanti li ricordano questi interrogatori anche gli stessi intervistati e oggi una cosa del genere non esiste per quanto riguarda i processi principali hai citato mafia capitale di cui magari poi Pietro parlerà ma il processo trattativo a stato mafia non ne parla nessuno eppure sono successe cose incredibili il borsellino qua a Caltanisetta non ne ha parlato nessuno a Reggio Calabria c'è in corso un processo con il senatore Caridi non ne parla nessuno ci sono uomini di potere insomma al banco degli imputati nessuno vuole puntare l'indice oggi a queste cose che sono fondamentali perché è un po' il continuum temporale di quanto è accaduto a quel tempo ma voi parlate Pietro Aaron parlate di informazione diciamo così sparita scomparsa ma siamo sicuri che la gente il popolo così anestetizzato come è stato oppure connivente o magari semplicemente stupido sia in grado ancora di essere scosso da un'informazione vera e su questo posso posso dire una cosa una delle cose preziosi della resistenza erano i giornali clandestini c'è gente che c'è morta per riuscire a far ciclossirare qualcuno dei fogli l'unità clandestina la scintilla ma anche i giornali cattolici eccetera l'informazione non è solo un diritto è anche quello di essere quello di un dovere fondamentale il problema è un altro è che io ad esempio calcolo se adesso vado e accetto la televisione digitale terrestre ci sono 50 talk show contemporanei abbiamo tutta una serie di personaggi sovraesposti una volta non c'erano pensiamo Marrazzo io sto parlando di Marrazzo padre la televisione che si faceva in quegli anni il lavoro del giornalista non era quello di essere davanti o alla telecamera o davanti alla propria penna era quello di raccontare storie e quindi erano le storie che erano davanti il problema è che adesso c'è una marea di testimonial è come che se fossero tutti talent show ci abbiamo da Sagiano adesso Piff poveretto lo stanno assorbendo pure lui oltretutto moltissimi di questi non sono giornalisti poi ci abbiamo guardate come era diventato Santoro sembrava una messa no? c'era il il chirichetto il chirichetto Vauro il censore Travaglio e il buon parroco che gestiva la cosa Santoro è impressionante delle ritualità in cui non succede assolutamente nulla sono sempre gli stessi ospiti e guardate caso come uno dei pochi dei pochi intelligenti ha continuato a fare televisione intelligente e è stato espulso di fatto dalla televisione che è Lerner che adesso è ultimamente rientrato con delle trasmissioni di documentari splendidi di questi operai sì in ottava serata che sono delle cose che sembrano cioè che fanno anche grandi ascolti per l'orario che sono totalmente espulse dal racconto il problema è aziendale è una scelta editoriale che le scelte editoriale in questo paese non sono mai aziendali sono quasi sempre politiche ma lì la questione è che è stato smontato il sistema e sono compiuti tutti di questa vicenda io andando su Mafia Capitale io ho cominciato a parlare dei morti ammazzati c'era un numero di omicidi proprio di esecuzioni di mafia a Roma che sommato Napoli Palermo e Reggio Calabria non raggiungevano quel numero all'anno quindi era abbastanza particolare non c'era nessuno diceva nulla ne dava notizia si infatti sto parlando 2011-2012 si però mi scusi Pietro la cosa che io sono andato al fatto ve lo dico proprio chiaramente dicendo ragazzi succede questa cosa ho detto ma questo è un problema abbiamo già parlato quando? negli anni 90 della banda lavagliana sono ritornati la situazione è allucinante non riguarda Berlusconi il nemico del numero uno di quel momento se non riguarda quest'altro la realtà non esiste se non passa per la televisione se non passa per questi contesti tutta la realtà esterna è inesistente infatti mafia capitale è sparita a Emilia che è un processo che mette in piedi il sistema a Emilia cioè una penetrazione capillare dell'andranghe nella regione c'è totalmente scomparsa non si ne sa nulla c'è un processo in corso che è un processo enorme e nessuno gliene frega nulla perché non esiste non è vendibile ma in termini di scambio politico più che ancora economico politico e questa è una cosa che in quegli anni nonostante tutte le difficoltà non era così e quelle responsabilità sono di tutti anche di chi faceva l'operatore dell'informazione quindi dei giornalisti che alla fine hanno deciso di smettere il lavoro del cronista e fare altro cioè diventare dei testimonio sì no ma io volevo mi scusi Pietro e perdonami Aaron se ti ti dico un attimo la parola e volevo soltanto mettere in evidenza come voi avete brillantemente scritto nel vostro libro io leggevo la postfazione per esempio di Salvatore ed è ed è ed è tremendo leggere che lui dice ci aspettavamo quando è stato chiamato perché gli hanno comunicato la morte del fratello 57 giorni dopo lui dice ci aspettavamo che venisse questo nell'intervallo fra la morte del primo magistrato e del secondo credo che ci sia un silenzio pauroso la stampa e men che meno altri si sono impegnati nell'evitare un evento che comunque tutti sapevano all'epoca non è stato assolutamente così te lo dico perché c'era c'erano sì ma io l'ho vissuta i giornali giorno per giorno raccontavano quello che succedeva a Palermo fra i 57 giorni la questione è che la gente si è scordata ma allora quando voi raccontavate queste cose la gente come la recipita cioè adesso abbiamo avuto una risposta e l'incazzata nera guarda adesso è stato rialetto Orlando stavo parlando con un ragazzo dei grillini eccetera adesso Orlando ha fatto guarda che Orlando ha lui i rapporti con la mafia e ha detto quali i rapporti con la mafia? cioè tu li devi conto che il giorno dei funerali della scorta di Borsellino Orlando prendeva le manganellate per difendere la popolazione che veniva manganellata perché voleva entrare dentro cattedrale dove c'era la cosa perché se la volevano prendere con i politici questa roba l'abbiamo raccontata benissimo nei dettagli dal piccolo cronista come ero io all'epoca alla grande firma c'eravamo tutti ed eravamo tutti sul pezzo la stessa cosa sulla questione di mafia capitale di tangentopoli eravamo tutti sul pezzo poi che cosa è successo? è successo di tutto cioè nel senso che prima ci attacca Berlusconi poi quelli che ci dovranno essere i nostri allati parliamoci chiaro i grillini ci hanno massacrato ci hanno fatto le liste di prescrizione con gli indirizzi di casa andategli a rompere le scatole parliamoci chiaro cioè qui è successo qualcosa di terrificante in termini culturali un autocolpo di stato psicologico all'intera popolazione italiana questa roba guardate che succede soltanto in Italia se voi andate in Francia non è così se voi andate in Spagna non è così se voi andate in Grecia non è così e solo in Italia perché c'è stato un sistema che è stato quello poi chi doveva risolvere il sistema ha attaccato quello che doveva essere il suo principale alleato ovvero la libera informazione che è un diritto è un dovere questo è il problema grosso di questo paese è che la politica è evidente da questa campagna elettorale che ci è appena stata per le listative è talmente tanto invasiva che ci ha massacrato a tutti non c'è più un racconto della realtà non c'è più un racconto della realtà se Orlando mi viene dipinto come l'amico dei mafiosi mentre c'è Ferrandelli che fa gli accordi con Cuffaro per me è un problema se la Raggi era una che gestiva i fondi della Fondazione Italia di Alemanno e poi mi fa la finta fricchettona comunista che non è mai stata ed evidente è tutto finto tutto falso è una rappresentazione che non esiste per questo evidentemente c'è disorientamento quando un giovane giornalista si avvicina una redazione e viene pagato se gli dice bene 8 euro lordi a pezzo non ci paga neanche le telefonate per fare quel lavoro questa è la situazione non è che qui non c'è libertà di informazione non c'è più l'informazione è questa la verità è questa la verità poi io vorrei sapere ad esempio faccio proprio una domanda visto che dentro il blog di Grillo ci sono un sacco di giornalisti che lavorano io vorrei sapere quanti contratti sindacalmente corretti in termini legali giornalistici abbiano all'interno della casaleggi associata i giornalisti che loro fanno pagare perché loro hanno assunto perché questo io vorrei sapere perché questa è la situazione stiamo parlando di contratti che sono pari a quelli dei metalmeccanici perché è un contratto basico giornalistico è un contratto di 1000-1200 euro al mese quindi non scherziamo su questa cosa non è che qui l'informazione ha delle responsabilità in termini di operatori c'è una responsabilità che è politica e sociale e poi gli italiani hanno deciso che era più comodo amici e i talent eh beh è chiaro però questo è un problema degli italiani che come al solito hanno il loro cioè noi siamo un paese dove c'è questa cultura del capo abbiamo avuto Mussolini Mussolini era grande era bravo era eccetera e poi dopo l'abbiamo impiccato a piazzale Loreto per i piedi sì Berlusconi Craxi le monetine Berlusconi la gogna mediatica così funziona adesso Grillo lo massacreranno fra un po' ma questo è quello che succede in questo paese ed è un problema nostro culturale il problema è che sicuramente l'informazione non è santa e ha fatto un sacco di errori però lì la questione è che quegli anni lì purtroppo che sono fondamentali noi l'abbiamo raccontati ma non abbiamo saputo più trasmetterli quindi l'operazione del libro che sembra anche abbastanza simpatica eccetera in realtà è tentare di riconquistare proprio questo riconquistare un pezzettino di memoria collettiva perché noi siamo cambiati in quegli anni e nessuno se lo sta ricordando quanto eravamo diversi quanto c'era di impegno sono stati gli anni durante i quali sono fioriti i vari movimenti d'opinione quindi è un ricordo che dobbiamo certo recuperare ma non è solo il ricordo che dobbiamo recuperare è soprattutto l'azione la partecipazione il sentirsi parte di quella collettività che ormai non viviamo più da allora perché sull'onda emotiva è stato un fiorire di mettersi insieme di parlare di discutere si passavano notti intere a parlare di quello che sarebbe potuto accadere delle speranze che tutto quello che è accaduto ha alimentato però poi si è si è dissolta questa questa come dire questa aura di 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 positività è andata scemando e non credo che solo l'informazione abbia una sua responsabilità ma anche la cultura a partire dalla scuola anch'essa massacrata rendiamoci conto che quelli che sono i fatti importanti avvenuti 25 anni fa non vengono insegnati nelle scuole non vengono contemplati come materia di studio mentre invece sono una parte fondamentale della nostra cultura allora non sarebbe arrivato il momento di cominciare a ragionare in termini completamente diversi il vostro libro infatti propone proprio questo un ragionamento un approccio un ragionamento diverso più collettivo più ampio fatto sì di ricordo ma che vuole comunque costruire il presente posso rispondere posso soltanto dire una cosa e poi lascio la parola Aaron che ho troppo spazio l'unica cosa per darti un'idea io non ti farò il nome della persona però una dei tanti vate di questa grande informazione sì facciamo lotta quando noi gli abbiamo proposto di fare l'intervista c'è risposto non capisco l'operazione il senso dell'operazione perché ci doveva essere per forza un senso dell'operazione in termini politici questa è la risposta che ci è stata data da una persona di cui io non avevo nessuna nessuna aspettativa Aaron un pochino di più però proprio la delusione di trovarsi io non ti farò questo nome perché le persone si sputtavano da sé non c'è neanche fatti basta aspettare un po' però c'è gente che ancora ragiona così ed è gente che molta molta popolazione mondiale in questo mondiale italiana pensa che sia il grande vate dell'informazione lì sono stato abbastanza chiaro eh io ritengo proprio di sì ma credo che la situazione sia abbastanza chiara ora si tratta solo di decidere di affrontarla ormai credo che sia arrivato il momento dell'azione appunto la riflessione va bene ma se alla riflessione non segue un'azione e ci facciamo poco penso no la memoria va benissimo però poi la memoria deve servire come sprone come molla come spinta a pretendere quello che è stato sottratto un pezzettino alla volta ma è stato sottratto Aaron io credo vabbè innanzitutto per quanto riguarda il discorso ehm informazione sulle responsabilità che che ha l'informazione sicuramente c'è una responsabilità politica sicuramente c'è una responsabilità eh mi viene a dire imprenditoriale e quindi anche politica perché eh chiaramente ehm diciamo che il potere tra virgolette se ammesso che potere hanno eh dei giornalisti è veramente a ribasso in base a quelle che sono diciamo le condizioni contrattuali l'ha spiegato benissimo eh Petro Satti eh per quanto riguarda il discorso dell'otto eh euro l'orde io sono stato anche sindacalista per quanto riguarda eh il sindacato qui nelle Marche e qui abbiamo casi anche di prezzi anche molto più o molto meno rispetto a quegli otto euro l'ora cioè per fare un esempio una semplice fotografia pubblicata su un pezzo è viene pagata due euro l'ora eh due euro l'orde scusate eh pensate pensate un po' quello che significa insomma quante fotografie bisognerà mettere insieme per arrivare a uno stipendio adeguato eh per quanto riguarda i contratti di collaborazione diciamo che fare questo mestiere oggi è più una passione che non un che non un guadagno a meno che non si ha la fortuna di essere eh diciamo amico di qualche ricco imprenditore o ricco politico e allora vedrai che gli stipendi i lauti stipendi saranno veramente eh alti e adeguati però con la differenza che tu a qualcuno dovrai sempre dire babbo quindi ecco che l'imprenditoria la la libertà di informazione scema sempre di più e eh però do anche una responsabilità agli giornalisti stessi proprio perché oggi c'è una sorta di auto c'è sempre più autocensura eh in parte li capisco anche perché oggi affrontare appunto l'universo ci sono querele querele temerari libertà di informazione si misura anche da queste cose qui eh è chiaro che bisognerebbe riacquisire un po' di quella eh libertà che tra l'altro è sancita dalla nostra Costituzione e per primi a far valere questa libertà dovrebbero essere proprio i cittadini che dovrebbero far valere il proprio diritto di essere informati io ho un'altra un altro ricordo per fare un esempio in passato è stata fatta una raccolta firme eh da più soggetti eh non solo con l'appoggio di figure come Grillo ma c'erano Grillo entrambi i fratelli Guzzanti Giulietto Chiesa Travaglio eccetera 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 la lista era veramente lunga era qualche anno fa e si cercava di togliere l'ingerenza della politica l'ingerenza politica dalla RAI e quella proposta di legge popolare che raccolse tutte quante le firme e che quindi doveva essere discussa in Parlamento ha fatto la fine di è finita in un cassetto e non è stata mai discussa in tutti quanti questi anni ecco quindi quando poi quei cittadini che non hanno fatto valere hanno avevano dichiarato la loro posizione ma poi dopo non ci si è più interessanti di che fine avesse fatto quella proposta di legge ecco che appunto si spiega la condizione in cui siamo oggi un po' tutti appunto si preferisce amici e si preferisce X Factor al mondo e si preferiscono i pacchi o si preferiscono i giochi a premi diciamo che la situazione generale culturale sociale non è bella e non aiuta certamente in questo senso detto questo è l'operazione che appunto si è voluta fare con questo libro Pietro l'ha detto molto bene abbiamo cercato di raccontare quell'anno per riappropriarci dei ricordi di quell'anno e la necessità è quella che certe cose non si capire perché sono avvenute e far sì che non si ripetano più questo è il quadro che bisogna fare un tema che hai toccato tu Antonella è quello dell'informazione a scuola scuola e informazione vanno avanti di pari passo purtroppo hanno cercato di azzerare in questi anni ci sono assolutamente riusciti il ruolo dell'informazione e è così come sono riusciti ad azzerare il ruolo della scuola oggi a me solamente il fatto che il preside il cosiddetto preside si chiama dirigente scolastico non più preside quindi un'azienda l'azienda l'hanno creata pure all'interno delle scuole mi fanno venire i brividi gli insegnanti avevano un ruolo di accompagnamento sociale culturale e solamente pochi riescono oggi spendendo parte del loro tempo e spendendo parte della loro sensibilità se vogliamo tramite ore extracurricolari quindi non quelle riconosciute e pagate diciamo dal ministero riesce a fare un minimo di educazione a legalità di educazione civica che non c'è più educazione civica a scuola e queste se noi come cittadini non non chiediamo di nuovo e non non ci riappropriamo di queste cose penso che insomma non abbiamo imparato nulla e quindi le situazioni potrebbero continuamente continuamente peggiorare ma spero che questo libro possa contribuire anche a questo perché ci sono riflessioni importanti anche su questi temi io posso dire una cosa la faccio dire a Stefano Vigilante che è uno degli autori delle interviste perché Stefano che è un comico è un comico anche pigro perché non si è mai spostato dal suo quartiere che è Scucello a Roma ha scritto forse ha detto una delle cose forse più poetiche più vere anche più tremende che escono da questo libro vi leggo questo paragrafo le streghe le ho vissute con la stessa angoscia con cui qualche anno prima c'erano state le bombe le pistolettate nei quartieri del Pignete di Centrocello tra fascisti e bambini così quando vedi l'immagine di Capace provai la stessa angoscia e l'agitazione che subivi quando andavi a scuola e non potevi entrare perché era stato gambizzato qualcuno lo riuscivo a leggere bene quel momento un'altra cosa che mi ha sempre colpito è quel filmato che c'era attorno si diceva sempre di questo non ne parliamo e quel non ne parliamo è stata la bomba più grande di Capace l'umertà dietro cui si nascondeva la povera gente e questo ti faceva stare male non ne parliamo e che famo ecco l'umertà c'era anche un'altra cosa che mi colpiva i commentatori dei tg avevano tutti questa voce sessualmente provata un rallent inquietante in una sorta di racconto che non voleva apparentemente trasmettere emozioni ma che in realtà già essa stessa trasferiva un'emozione nel vano tentativo di avere tutto sotto controllo o quasi questa forse è la più bella fotografia che è stata fatta del clima popolare che c'era di come la viveva la gente normale sì e ce n'è un'altra Pietro mi permetto di citarla Aaron col tuo permesso come no nella testimonianza resa da Maurizio Bologna dove dice una volta c'era la censura e credo che ora sia anche più forte più raffinata ci sono verità che restano nascoste per anni me ne rendo conto quando parlo con mia figlia e mi racconta quello che si dice a scuola non si sa nulla di come siano andate le cose nella storia sullo sbarco degli americani sull'annessione del meridione d'Italia tutti sanno che Garibaldi era un eroe che Camillo Benso era un illuminato ragioniere poi magari a dire per la verità che emerge da qualche archivio impolverato in cui carte alla mano si parla di qualche cosa che fino a quel momento era ignoto mi chiedo perché cosa c'è ancora da nascondere magari lo scopriremo fra altri 25 anni ora questa prospettiva non mi sembra delle migliori in un paese che si definisce democratico assolutamente no ma il fatto è che purtroppo è la fotografia plastica di quello che è accaduto in tutti quanti questi anni di storia purtroppo ci sono verità che ci stiamo accontentando di brandelli di verità ma questo non può bastare per per veramente appunto definirci liberi e democratici ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata di quanto diciamo dal 40 già dagli anni 40 vari cercati si scatenano diciamo i vari misteri della nostra storia forse forse anche prima ancora prima dello sbarco degli americani non a caso si cita Maurizio Bologna cita Camillo Benzo Conte di Cavour se andiamo se andiamo a vederla fino in fondo insomma credo che appunto l'informazione l'informazione diciamo ha un ha un ruolo ha un ruolo importante oggi visto che avete citato due dei intervistati tra te e Pietro io cito un'altra persona che è Giobbe Covatta lui dice molto chiaramente che si è creato un grosso cratere culturale ideologico dal 92 ad oggi uno dei problemi maggiori dell'informazione è la sintesi e qui ritorniamo a quello di prima una volta oltre all'informazione si esprimeva anche un'opinione precisa proprio quello che diceva Pietro prima la scomparsa dei fatti la mancanza d'analisi oggi con internet l'informazione viene compressa in uno spazio di 43 caratteri anche su questo si potrebbe fare una grandissima riflessione tutto deve essere accessibile per raggiungere più gente possibile tutto è più stringato e in queste stringature si perde l'anima di chi parla tutto rimane più casettico nonostante riusciamo a vedere immagini sempre più precise e dettagliate delle bombe che cadono c'è sempre qualcuno che ha in mano un telefonino pronto a riprendere come in Francia poi si parla dei migranti dei bambini africani dei numeri ma loro non sono statistiche sono Mario Giovanni Giuseppe però lo capisci quando li incontri e li conosci ecco questa è proprio credo l'immagine di quello che è oggi l'informazione e anche di quella che è oggi la nostra cultura diciamo sì però Aaron giusto per riprendere il discorso che facevamo prima con Pietro a cui va dato naturalmente la massima stima per il lavoro eccellente che è stato fatto e d'altra parte anche nel suo libro insomma si può benissimo riscontrare però la domanda che ci facciamo il bandito della guerra fredda mi permette di ricordare ecco la domanda che ci facciamo è come mai un evento come quello attuale che stiamo vivendo tutti in prima persona cioè quello che coinvolge magistrati coraggiosi integerrimi attentissimi che qualcuno vuole ammazzare ha creato ha creato le 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 civiche le guardie civiche insomma ha creato le scorte civiche movimenti di opinione ha creato un sacco di gente fra noi che insomma si è messa accanto a questi coraggiosi mentre allora allora sono bastati 57 giorni nonostante l'impegno dei vari giornalisti con Pietro come altri come lui non è successo nulla avevamo bisogno di altri ammazzamenti o è la tecnologia di internet che ci ha coinvolti di più ma io credo io credo che è vero che Paolo Borsellino allora Paolo Borsellino probabilmente prima prima della morte di Giovanni Falcone lo conoscevano in pochi Paolo Borsellino è arrivato diciamo a essere una figura nota dopo perché tutti sapevano che lui sarebbe stato l'erede morale in qualche maniera ma c'era stato anche il ministro Scotti che di fatto lo aveva nominato alla procura nazionale antimafia suo malgrado senza neanche interpellarlo questi sono i fatti mi chiedo io quanti in Italia sapessero bene e chiaramente erano distanti da Paolo Borsellino Giovanni Falcone l'avevano visto già negli anni prima anche perché Giovanni Falcone era quello più che più frequentava più esposto ma frequentava anche i salotti la televisione poi ci furono anche le polemiche molti che erano vicini a Giovanni Falcone a un certo punto hanno lasciato anche dal punto di vista dell'informazione da solo Giovanni Falcone perché pensavano che avesse tradito la fiducia che gli era stata data andando a accettare un ruolo in politica al ministero della giustizia all'ufficio affari penali questa è la situazione è vero che va ricordato che comunque con le stragi si erano creati i movimenti dei lenzuoli i movimenti al tempo stesso popolari così come oggi magari ci sono che c'è la scorta civica che comunque ha permesso questo va dato atto insieme a Salvatore Borsellino e la agenda rossa anche quell'azione diciamo di attenzione ha permesso in qualche maniera che al procuratore sostituto procuratore di Palermo oggi sostituto procuratore alla procura nazionale antimafia proprio da oggi e io approfitto per fargli in bocca al lupo Antonino Di Matteo avesse riconosciuto il sistema di sicurezza bomb jammer dopo tutto quello che è avvenuto nei suoi riguardi l'arrivo di 150 kg di tritolo le minacce di Rina e quant'altro però in realtà la grande assente è sempre quella non sono i cittadini gli assenti non sono i cittadini Pietro ha detto bene i cittadini erano incazzati neri usando il francesismo è sempre è stata comunque la politica a far mancare a far mancare l'appoggio ai magistrati tanto nel 92 quanto oggi che siamo nel 2017 infatti non credo che la situazione di oggi sia molto diversa da allora in questo senso senz'altro c'è una maggiore consapevolezza una maggiore partecipazione tanto che insomma quotidiane sono le attestazioni di stima di presenza soprattutto nei confronti di Nino Di Matteo ma divagando un attimo ma non troppo se vogliamo tu Pietro accennavi poc'anzi all'ultima tornata elettorale amministrativa i dati che ne sono emersi sono abbastanza così meritevoli di riflessione ritengo anche se le amministrative non sono le elezioni nazionali per cui le politiche per cui vanno sempre viste in un'ottica differente ma i segnali giunti sono quelli che conosciamo cioè un avanzamento del centro-destra una vittoria se credo si possa dire abbastanza indiscutibile del partito del popolo degli astensionisti una sinistra che pare ne venga fuori con le ossa abbastanza rotte infatti lo stesso Renzi è stato molto molto prudente nelle dichiarazioni successive agli esiti la vostra opinione rispetto a questa tornata elettorale qual è il segnale che giunge dai territori alla politica io vado ritorno su un francesesimo significa che gli italiani non sono completamente rincoglioniti perché esattamente questa è la cosa perché si saranno anche incorrotti da mante diciamo il segnale più evidente è va bene il populismo però adesso ti metto un attimo da parte e visto anche che non sei in grado ed è evidente che non sei in grado di gestire come partito cioè come organizzazione e sto parlando in particolare di cinque stelle l'unico che infatti ha avuto successo anche in termini elettorali è Pizzarotti che è stato espulso dai cinque stelle quindi c'è questa percezione in cui abbiamo mandato il messaggio ti abbiamo utilizzato noi italiani ti abbiamo utilizzato per mandare il messaggio ai partiti il centrodestra tiene ma sono in realtà tiene bene ma in realtà solo quando non vanno alla conflittualità sulla leadership quindi Salvini ha tenuto un profilo basso e quindi è andata bene la questione è che ovviamente Renzi non può festeggiare per il semplice fatto che la scissione pesa e che se lui va a lezioni senza fare l'alleanza con quelli che ha buttato fuori dal PD lui perde e questa è l'evidenza dell'operazione la questione è tutta lì nel senso che stiamo ritornando alla Margherita e al PDS questo è quello che sta avvenendo c'era questa illusione col mega partitone di diventare super maggioritari non è così non funziona così e la sinistra deve ritrovare un'anima che non ha che finora non riesce neanche a capire qual è oltre a volte è in gravissima difficoltà il PD è in gravissima difficoltà la cultura della sinistra non riesce più a leggere la realtà parliamoci chiaramente si è ubriacata perfino per la globalizzazione per poi scoprire che poi forse non era così bella come pensavano non pensavo a Bersani in particolare però lì la situazione è abbastanza inquietante certo che poi ci sono delle risposte in cui gli italiani hanno dato delle grandi reazioni devo dire che la maturità degli italiani è molto maggiore di quanto si potesse aspettare dalle scorse elezioni cioè quelle dell'anno scorso diciamo che secondo me si sono anche spaventati gli italiani si sono spaventati sia della vicenda Roma sia e l'avevano capito che sarebbe successo qualcosa anche delle ultime cose di sviluppo e lì la gente poi quando quando si parla del comune quando si parla delle cose pratiche eccetera ritorna razionale della quotidianità perché poi la gestione del territorio è tutta altra cosa esattamente e lì la questione è che fino a quando si fanno chiacchiere si fanno chiacchiere e uno può lavorare con gli slogan ma poi quando devi mettere in piedi gli autobus i servizi l'assistenza eccetera poi la risposta della ragia è stata veramente per me è stata veramente prevedibile cioè che avrebbe fatto l'occhiolino alla destra tirando fuori la cosa migranti e Roma subito dopo allora cacciamo i migranti e i Roma per vedere di recuperare lì ma cioè veramente cioè ormai questi non navigano a vista cioè magari vanno sbattendo contro i muri di un labirinto dove si sono infilati loro non vedo via di uscita da questa situazione certo è un fatto che tutto quello che poteva essere il conflitto negli anni della crisi e quindi che poteva essere positivo cioè il conflitto in termini di far emergere positivamente le cose loro l'hanno anestetizzato trasferendolo tutto sul blog e questa è una cosa che io trovo criminale ma io non credo che diciamo l'analisi più chiara sia chiaramente il fatto che hanno vinto tutti non ha vinto nessuno cioè se vai a guardarla fino in fondo nell'ottica nell'ottica nazionale forse ha vinto solo Orlando che al quinto anno per la quinta volta sarà sindaco a Palermo da parte a parte le battute credo che in questo caso ci sia stata una sorta di corsa a perdere io sinceramente ho condiviso molto non so ci sono stati degli errori clamorosi da parte da parte dei da parte dei 5 Stelle da parte di Renzi se dovessi fare ognuno mi metto nei panni di ogni di ogni partito e faccio un'analisi di quello che è accaduto Renzi ha buttato fuori l'anima della sinistra che c'era all'interno del PD e di fatto ne subisce le conseguenze e ti tocca fare i conti con questa situazione i 5 Stelle pure hanno fatto una serie di mosse e alcune le ha citate giustamente Pietro la prima cosa è quella di Pizzarotti che era l'unico è stato il primo grillino che era andato a governare una delle città più grandi ed era e l'ha governata bene dall'altro mettendo anche in pratica i dettami che comunque erano le linee guida principali del partito poi dopo ce ne sono entrate altre quindi è stato buttato fuori però questo sicuramente è stato un autorete a Genova è successo quello è successo con casini e scontri interni così come scontri interni ci sono stati a Palermo dove forse per certi versi veramente il 5 Stelle poteva essere l'unica alternativa diciamo a qualcosa a qualcosa diciamo a Orlando come si dice che i 5 Stelle vinceranno le prossime o potrebbero vincere le prossime regionali certo bisognerà vedere in base a tutti questi fallimenti che ci sono stati o queste mosse che ci sono state se veramente il consenso delle regionali siciliane sarà poi forte oppure no devo dire anche senza fare pronostici che al momento i nomi che si vociferano per quanto riguarda il centro-destra di fatto non c'è per il centro-sinistra il PD forse pensa di calare l'asso con il presidente del senato Pietro Grasso allora forse lì la situazione la partita si riapre Taranto che poteva essere l'ideale per poter vincere con il governo che aveva annunciato il salvataggio dell'Ilva con 6.000 sub di quant'altro era praticamente impossibile mancare il ballottaggio così non è stato con il solito ballottaggio destra e sinistra praticamente lo stesso di fatto c'è questo scaricare sulle liste civiche che sono comunque parte dal loro punto di vista del loro elettorato a livello nazionale io non so se è veramente così io credo che ognuno qui deve farsi due conti e deve iniziare a pensare soprattutto ai programmi perché i cittadini non possono essere presi in giro bisogna iniziare già ora a dire quali sono le squadre eventuali di governo bisogna dire quali sono i piani e i progetti per il nostro governo per il nostro Stato per i cittadini per i lavoratori bisogna tornare a parlare di quelle cose che sono concrete per quanto riguarda il tessuto sociale culturale economico e quant'altro perché queste sono le cose che interessano poi veramente invece qui per ora c'è questa area attendista e si va a guardare ai modelli tedeschi non montedeschi quant'altro eccetera si continua a fare un gioco che non si comprende ancora abbiamo i diktat su quello che si deve o non si deve fare da parte di Giorgio Napolitano cioè questa è la situazione che noi abbiamo oggi nel nostro paese poi dopo bisognerà vedere perché io sono sempre non è che voglio fare il pessimista ma credo che qualsiasi sia il governo che andrà a vincere le prossime elezioni dovrà sempre comunque fare dei conti con logiche di politica internazionale e queste sono cose che tra l'altro proprio il libro di Pietro il mio ne accenna ma il libro di Pietro ne parla in maniera puntuale e precisa con tanti documenti alla mano ma infatti quanta politica possono esprimere questi partiti al di là diciamo delle vicende collegate alle elezioni in votazione amministrativa ma quanta politica possono esprimere con i condizionamenti della comunità europea che sono sempre più pressanti in realtà siamo controllati passo dopo passo anche nelle leggi che dobbiamo costruirci insomma e quindi credo che non è che vale solo per voi non ho capito però questo vale per tutti i 25 paesi anzi adesso 24 certo ma stiamo parlando di un paese come tu dicevi bene prima è molto bravo è maestro negli occultamenti e nelle omertà ci sono un paese che avrebbe dovuto crescere non soltanto economicamente ma culturalmente di pari passo con quelli della cosiddetta comunità europea credo che questa crescita non sia di pari passo credo che abbiamo molto di più da fare rispetto a loro per cui diciamo noi subiamo credo che si possa dire che anche le crescite economiche hanno una percentuale molto bassa rispetto agli altri e questo non capisco perché avvenga guarda tornando proprio al libro di Aaron perché ci abbiamo a un certo punto ne parliamo dell'Europa esattamente e abbiamo preso come ultima intervista prima della postazione di di Salvatore Borsini siamo andati a prendere Giancarla Cotrignani che Giancarla Cotrignani è un intellettuale cattolica che era poi stato eletto nel PC per anni occupandosi di essere difesa fra l'altro nelle liste di sinistra indipendente per intenderci a un certo punto ha parlato di isolamento di Falcone esatto ne ha parlato benissimo anche perché l'aveva conosciuto bene a un certo punto dice una cosa molto chiara parlando di Spinelli che è stato uno dei padri della patria adesso tutti si riempiono la bocca di Spinelli di Rossi sull'Europa eccetera però tutti se ne avevamo perfino dimenticati ma in particolare di Spinelli che diceva che tornava che l'avevano mandato in Europa come tutti i trombati di russo venivano mandati in Europa perché non disturbassero lui europeista quindi gli stava bene tornava e faceva queste riunioni assolutamente vuote nessuno gli affricava assolutamente nulla di quello che succedeva in Europa e dice questo è l'isolamento delle persone perché la politica in qualche modo come è stata pensata in questo paese come è stata vissuta e continua a essere vissuta è l'isolamento cioè Berlinguer era isolato in maniera clamorosa diceva lo odiavano proprio dentro il partito poi dopo c'era il partito che quando si decideva tutti stavano in linea perché allora c'era il vecchio partito comunista ma così andava ma anche non soltanto nella cosa nella politica anche Falcone era isolato e infatti la Cotrignani parla di questa cosa di Falcone e fa un parallelo con Berlinguer pensate cioè nel senso non ideologico ovviamente ma sull'isolamento di queste figure che sono persone che cambiano le cose ma poi ne pagano un prezzo in termini anche personali allora tutta questa cosa qui che tipicamente fa parte della storia di questi sempre delle figure di cambiamento grosse di solito pagano prezzi la questione che non è soltanto nostra io sto pensando che non so Olaf Palme in Svezia quello che sono state la Gladio Belga di cui nessuno parla quelli movimenti terroristici in Irlanda ma anche l'Eta Basca tutta questa roba qui non è che ha attraversato soltanto il nostro paese noi in più abbiamo sicuramente un aggravante che è quella di avere una delle più grosse mafie del mondo delle organizzazioni più grandi e più forti in termini culturali ma perché poi l'abbiamo alimentata perché avendo ce l'abbiamo usata in termini di potere di gestione del potere la questione è che come ne usciamo come dici tu non ne usciamo facile ma certo non ne usciamo andando fuori dall'Europa cioè nel senso che l'Europa è l'unica cosa che tiene cioè se noi pensiamo che adesso usciamo dall'Europa calcoliamo che ci sono 80.000 giovani che ogni anno decidono di andarsene fuori in Europa e che si stava costruendo una e loro non si pensano neanche più italiani ma perché la nostra generazione ancora siamo agganciati all'idea siamo italiani la gente ormai guarda fuori non è più soltanto cioè il problema è che la politica l'informazione eccetera è ancora legata a meccanismi schematizzati quella che è soltanto economia eccetera invece la gente si sta mischiando culturalmente sì ma scusami Pietro una domanda una considerazione che chiedo anche ai nostri ascoltatori come mai la politica europea in alcuni casi è disgiunta il nostro paese è stato ed è tuttora il paese che accoglie tutti i profughi però al confine abbiamo la chiusura dei passaggi verso i paesi europei cosiddetti paesi più civili del nostro e tutto questo accade per una decisione che viene presa credo a livello comunitario da parte dei paesi che contano no no perché noi abbiamo fatto una cazzata cioè nei italiani abbiamo firmato Dublino e l'ha firmato un leghista fra l'altro perché era il ministro degli interni il trattato di Dublino cioè questi ci hanno presentato la fregatura e noi che eravamo tutti impegnati fra Berlusconi la Lega il separatismo quella e quell'altra abbiamo firmato un'enorme truffa e adesso ci troviamo fregati il trattato di Dublino prevede che tu non c'è l'obbligo della cosa dove arrivi rimani e chiaramente questi lo applicano nel senso quando tu c'hai un'ondata non sei mai visto dove arrivano 400.000 persone l'anno 500.000 persone l'anno soltanto in Italia e ovviamente gli altri paesi dicono come faccio a sobbirli se sai che c'è questi si sono firmati la fregatura e io gli dico le frontiere la questione che noi abbiamo fatto Maastricht ma non abbiamo mai fatto la Costituzione Europea e tutta la questione e adesso la dico brutalmente è grazie al Vaticano perché ha fatto questa campagna terrificante sui valori cristiani dell'Europa che è la più grande stronzata in termini basta leggere Hector Armoren quando parlava delle multiculturalità religiose dell'Europa che erano la base dell'Europa stiamo parlando delle più grandi filosofie del 900 che era di Salonicco madre musulmana padre credo cortodosso cultura francese laico eccetera e lui raccontava la dissoluzione dei Balcani durante la guerra in Bosnia andando a vivere da Parigi a Sarajevo e diceva qui si gioca tutto perché qui tutti convivevano è la stessa scusami Pietro è la stessa benedizione divina che impedisce che ci siano attentati da noi e in Grecia no no lì è Bassandra anche benissimo siamo capiti da qualcuno io la dovranno che vengono prodotti dai naviani in mano a lì ah certo scusami ti ho interrotto Aaron vuoi aggiungere qualcosa io aggiungo il fatto che in Europa noi dobbiamo l'Europa sicuramente ha un ruolo importante condivido anch'io che in questo momento non possiamo permetterci di uscire dall'Europa in virtù di tutta una serie di fatti non solamente nostri nazionali ma anche per questioni internazionali economiche e quant'altro ci aggiungo che sarebbe necessario un'uniformità per la Costituzione delle Costituzioni europee per fare una Costituzione europea ma ci aggiungo anche che l'Europa dovrebbe molto spesso io sarà che sono in questo caso ragiono da detto ai lavori diciamo o meglio da persona che in qualche maniera ha a che fare con la cronaca giudiziaria e mi rendo conto di quanto l'Europa per quanto riguarda il contrasto alle comunità organizzate il contrasto alle mafie il contrasto alla corruzione al riciclaggio sia anni luce indietro rispetto a noi e da questo punto di vista ecco loro avrebbero molto da imparare dal nostro ordinamento che comunque presenta dei problemi proprio in queste materie c'è quindi proprio immaginiamo quello che accade quello che accade al in questo momento in Europa in altre zone dove si sono accorti solamente con la strage di Huisburg in Germania che si steva l'andrangheta con le locali lì ma fino a quel momento diciamo l'Europa ignorava che potesse esistere la società organizzata anche in quei luoghi ma come esiste in Germania noi abbiamo prove da inchieste che sono state fatte più di recente l'inchiesta infinito quant'altro i locali di Ndrang sono presenti tanto in Germania quanto in Austria quanto in Svizzera quanto in Spagna in Belgio quindi di che stiamo parlando questo è il quadro insomma Sono le 19.33 però io non posso non chiedervi col permesso della regia naturalmente un cameo per entrambi rispetto alle dichiarazioni di Graviano Per quanto mi riguarda io non so visto che adesso stanno montando dei sospetti da parte di alcuni colleghi o altri che potessero essere in qualche maniera Graviano potesse sapere che era intercettato o meno io credo che Graviano così come Irina era stato in passato non era non era consapevole di essere intercettato credo che una parte chiaramente non possiamo pensare che uno della sua levatura non sospetti che ciò possa avvenire quindi comunque è ovvio che gli inquirenti dovranno ben valutare ogni 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 aspetto ogni singola parola di quello che ha detto ma credo che proprio da Giuseppe Graviano possa venire qualora collaborasse con la giustizia si decidesse con la giustizia visto che dice che in carcere ci sta male che in carcere è un succhiato fisso uscire dal carcere e quant'altro lui più volte ha mandato esternazioni dove dice di voler parlare o poter parlare con la magistratura con gli organi inquirenti quando starà meglio questo star meglio lui è solo lui che può decidere se stare meglio oppure no non c'è un'altra persona lui non può delegare ad altri e cioè deve collaborare e iniziare a intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia queste intercettazioni sicuramente sono utili interessanti saranno oggetto di indagine approfondita da parte della procura di Palermo di Caltanisetta e di Firenze possono aprire degli squarci importanti su anni che sono ancora oggi bui e che non sono vecchie storie come un ex presidente del consiglio tra l'altro citato da Graviano spesso diceva e questo presidente del consiglio è Silvio Berlusconi Pietro io penso che si devono sbrigare a metterlo in sicurezza ecco perché l'esperienza di messaggi in qualche modo analogo non così evidenti non lo stile era completamente diverso di Provenzano poi portarono a ben alte conseguenze questo da un lato già lo spostamento a Terni è un effetto sì assolutamente questo 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 è l'altra questione è che Graviano è persona fondamentale per capire quella non tanto nel 92 quanto in realtà quello che è successo poi successivamente nelle strage di continente anche perché lì hanno giocato un ruolo primario diretto tra l'altro già si andava a una gestione più collegiale dopo l'arresto di Lini e quindi c'era già una situazione completamente diversa e sono sicuramente di Graviano personaggi estremamente abili nella gestione io penso semplicemente all'autorizzazione a parlare che danni in qualche modo a Spatuzza sì a questo punto sembrava quasi che Spatuzza fosse il portavoce di Graviano e non si facessero avanti c'è stato un momento lì delle sue dichiarazioni il famoso contratto ECO confronto fra Filippo Graviano e Spatuzza in cui nonostante le accuse di Spatuzza il boss dice io non so se tu stai dicendo il vero ma chi sono io per dire questo e poi grandi espressioni di affetto eccetera che fa un pentito è un boss di mafia non succede questo infatti diciamo già questo infatti infatti va bene però insomma la famiglia Graviano sicuramente è fondamentale certo seguiremo la faccenda lo faremo anche con la nostra trasmissione osservatorio antimafia che questa sera alle 22 vuole proporre a tutti gli ascoltatori di Radio Science la conferenza Aaron che si è tenuta sabato 20 maggio presso la facoltà di giurisprudenza all'Università di Palermo conferenza tra l'altro durante la quale tu sei stato moderatore ed erano presenti intitolata seguite i soldi troverete la mafia dalle parole di Falcone ad oggi cosa è cambiato 25 anni dopo la strage di Capaci e sono intervenuti in qualità di relatori Roberto Scarpinato Sebastiano Ardita Gianni Dragoni e Giorgio Bongiovanni direttore appunto di Antimafia2000.com tu sei stato il moderatore e ci sono stati anche i saluti di Brizio Montinari quindi le dichiarazioni di tutti i relatori sono state estremamente importanti mi permetto Aaron salvo che tu voglia correggermi di sottolineare quella di Scarpinato che ha fatto una lucidissima rappresentazione del sistema economico finanziario mafioso di quanto sia appunto cambiato di quale fosse l'importanza dell'intuizione avuta da Giovanni Falcone 25 anni fa quindi io invito tutti i nostri ascoltatori a seguire questo speciale che questa sera l'Osservatorio Antimafia dedicherà e ringrazio voi naturalmente e ricordo il libro di Aaron Pettinari quel terribile 92 25 voci per cambiare l'anno per raccontare l'anno scusate che cambiò la storia a cura di Pietro Orsatti edito da Imprimatur e ricordiamo anche il tuo libro Pietro al quale abbiamo fatto un breve riferimento quest'oggi di cui abbiamo parlato qualche settimana fa no? Il bandito della guerra fredda anche questo edito da Imprimatur è uscito a fine marzo stiamo continuando la promozione in questo periodo sulla vicenda della costruzione degli apparati della prima strage modello delle strage successive in questo periodo e ci riferiamo a quella di Portela della Ginestra esattamente bene io do la linea alla nostra regia per i saluti al network visto che le abbiamo purtroppo saltati in apertura di trasmissione e poi passiamo ai saluti finali prego Rosario bene che mi hai chiamato in causa salutiamo il network saluti i tuoi ospiti diamo un appuntamento alle 22 ricordando che questa trasmissione è andata in diretta come tutte le nostre trasmissioni live su tutte le web radio del network che sono Radio Favaro Veneto Radio Reno Web Radio Sismondi Libri Modena Noi Radio Radio Is Radio Valdichiana ovviamente siamo andati in onda anche sulla web tv sulla nostra pagina su facebook sul sito radiosites.it sul live stream e su Dailymotion alla fine di questa trasmissione chi volesse riascoltarla sulla pagina facebook può già riascoltare la trasmissione poi da domani metteremo sul nostro canale youtube lo stream il podcast con questo è tutto ti rigiro la linea Antonella grazie Rosario grazie a Daron Tettinari grazie a Pietro Satti grazie a Ugo per averci assistito con la regia da moda e soprattutto grazie ai ascoltatori per averci seguito anche questo pomeriggio ricordate lo speciale di questa sera alle 22 e vi ringraziamo dandovi appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 18.30 per una nuova diretta di Spazio Perto buona sera da tutti e buon lavoro buon lavoro a tutti un attimo soltanto a non partire perché sembra che sia arrivato Massimo perché ha delle notizie importantissime Massimo ha delle notizie molto importanti insomma di quello che è successo almeno così ci ha fatto sapere lo sto tirando dentro vediamo come va Massimo siamo in chiusura siamo in chiusura se vuoi chiudere con le notizie ti siamo grati eh sì no purtroppo qui non potevo essere presente adesso perché c'è una situazione veramente di un forte maltempo io vi do le ultime notizie dunque sono le seguenti volevo darle in apertura poi ho sentito che siete partiti con la trasmissione e ho detto beh intanto raccogliamo qualcosa anche dal comitato legati dell'Inter veneziano perché l'ondato di maltempo diciamo così si è abbattuta nel veneziano ma non solo anche nella marca trevigiana quindi io qui ho delle immagini ad esempio della di Treviso al centro e praticamente proprio vicino dove c'è la radio madre Radio Science credo che da te ci siano stati anche dei allargamenti io qui vedo da queste immagini addirittura un albero che ha chiuso la strada praticamente il put dove si arriva alla stazione ferroviaria siamo in prossimità della stazione ferroviaria di Treviso ma andiamo per ordine iniziamo dunque con con il con il veneziano praticamente ci sono stati forti forti raffichi di vento pioggia tipo per capirci una bomba d'acqua rallentamenti anche con il servizio pubblico locale ci sono stati quindi dei disagi traffico in tilt dunque il sottoscritto ha fatto proprio le corse per arrivare qui in postazione da dove trasmettiamo qui da pianeta oggi tv radio circuito radio science quindi siamo nel veneziano allora dicevo da vediamo di andare per ordine da venezia today vediamo cosa riporta questa testata dunque vento e pioggia battente sul veneziano alberi a terra decine di chiamate ai pompieri nel pomeriggio è arrivata quindi l'ondata in maltempo che è stata annunciata e ha coinvolto laguna e terraferma gli interventi sono stati fatti soprattutto a Lido e a Mestre vento e pioggia battente erano stati annunciati comunque della protezione civile e puntualmente sono arrivati sia in laguna che in terraferma i vigili del fuoco verso l'ora i 17 sono stati raggiunti da alcune decine di telefonate più che altro per segnalare la presenza di rami per strada vediamo di continuare a vedere un altro per fare una sintesi sulla testata Venezia Today dunque prosegue qui c'è anche per chi volesse vederli può entrare in un secondo momento su veneziatoday.it ci sono anche dei video allora proseguiamo a leggere ci sono stati anche interventi più problematici specie per alcuni alberi che hanno ostruito le strade i pompieri per esempio sono dovuti intervenire a Lido di Venezia in via Sandro Gallo per un albero caduto più o meno all'intersezione di via Colombo mandando in difficoltà la viabilità allo stesso modo con ogni probabilità per le folate di vento impetuose una segnalazione è giunta per un tronco sulla sede stradale anche in via Altobello a Mestre vicino all'intersezione con via Lancona in via Parco Ponci invece l'autogru ha dovuto intervenire per lo scoperchiamento di una struttura problemi alle alberrature anche in via Terraglietto oltre che in via Pasqualigo dove la strada è stata completamente struita da un albero problemi anche a Cavallino Treporti siamo più diciamo nella zona più orientale della provincia di Venezia dove un'auto è finita in parte in traiettoria di un tronco problemi anche sulla viabilità ferroviaria questo è quanto in effetti io quando sono arrivato qui in postazione avevo diciamo mezzo cortile anzi più di metà cortile completamente lagato malgrado i tombini ricevessero benissimo quindi vi lascio immaginare con che forza è caduta l'acqua è caduta la pioggia ci spostiamo ci spostiamo nella marca travisiana a Martempo sempre dalla testata giornalistica Treviso Today questa volta è Treviso Today vediamo cosa dice un dato di maltempo tra Montebellune Treviso raffica di interventi dei Vigili del Fuoco alberi caduti nei pressi della stazione trevisiana a Sant'Antonio un mobilificio invaso dall'acqua e anche a Casier a Biadene un vero e proprio nubi fragilo tromba d'aria registrata tra Casale e Monastier disagi anche ad Altivole e Asura ecco io ricordo ai nostri ascoltatori quando ci sono queste ondate di maltempo così violente ultimamente sempre così poi scende perché dopo non è finita poi arriva l'aria fredda l'aria gelida quindi un colpo di un colpo di temperature a ribasso notevole ecco quando ci sono questi fenomeni così violenti c'è veramente da stare molto attenti perché se all'improvviso si forma una tromba d'aria vi lascio immaginare oltre i danni anche il pericolo per le persone vediamo anche qui di ricavare altre informazioni dunque a Treviso vento forte pioggia un dato di maltempo in queste ore sulla marca con decine di interventi da parte di Vigione Fuoco per allargamenti e alberi caduti alcune piante sono finite sulla strada a Treviso nei pressi della stazione ferroviaria e a Casier si sono registrati due alberi caduti poi ancora avanti a Sant'Antonio un morbidificio è stato invaso dall'acqua fuoriuscita dai tombini a Montebluna si è scatenato un vero e proprio nubifragio soprattutto a Biadene qui ci sono su Treviso today anche delle fotografie relative disagia anche ad Altivole ed Asolo alberi sono caduti a Mogliano Veneto di fronte alla chiesa e a Bonisiolo a pochi passi dal parrocchiale una piccola tromba d'aria si è sviluppata tra Casale Sussile e Monaster con diversi alberi sradicati dalla furia del vento e qui c'è anche un altro video relativo ecco io direi alle 19.47 di chiudere qui questa finestra sulla improvvisa e forte ondata di maltempo che si è battuta in Veneto in ricordo le province più colpite sono state quella di Venezia inclusa anche la laguna di Venezia e la provincia di Treviso attualmente io ho anche qui la finestra aperta vedo che piove ma non in maniera diciamo preoccupante diciamo che sembra più grato un cielo autunnale quindi il peggio è passato alle 19.48 direi di chiudere qui questo aggiornamento delle notizie restituisco la linea alla regia centrale bene allora chiudiamo con queste notizie diamo appuntamento questa sera alle ore 22 con osservatorio antimafia un caro saluto a tutti quanti amici del nostro condominio come diciamo sempre Ugo vai con la sigla a tutti Grazie a tutti